Ciao ragazzi, oggi non sono qui per parlare di calcio perché, come sapete, sono in clima derby, quindi non si parla fino a domenica, ma sono qui per raccontarvi un episodio che mi è successo questa mattina mentre stavo andando al lavoro. Allora, cercherò di essere breve ma conciso. Praticamente, come tutte le mattine, per recarmi al lavoro io prendo i mezzi, la metropolitana, e praticamente mentre salgo sulla metropolitana a un certo punto vedo che il treno non riparte. E lì mi dite, vabbè, aspettiamo. In quella, in quella, una signora corre lungo la banchina della fermata e va verso il macchinista, gli bussa e gli dice qualcosa al macchinista. Io non sono stato lì a seguire perché già era tardi e quindi volevo che questo benedetto treno ripartisse, no? E praticamente da quel poco che sono riuscito a capire, la signora gli ha detto che nei vagoni indietro c'era dell'odore ribruciato. Vabbè, a un certo punto il macchinista con l'autoparlante indica, ci invita, per meglio dire, ci invita a scendere. E io mi scuso, ma devo dire le parole che ho detto. Mentre stavo scendendo dal treno, mi è scappato un vai a cagare. E mentre io lo dicevo, involontariamente si vede che io ho guardato il macchinista e lui quando ha sentito questa parola si è un po' risentito, giustamente, perché magari pensava che io lo stessimo andando a quel paese a lui e lui ha cominciato a inveire contro di me, giustamente, dicendo ma come ti permetti, come ti permetti, cioè tre volte, tre, quattro volte mi ha detto sta roba come ti permetti, cioè come se fosse colpa mia che il metro non funziona, no? E io gli ho detto, guardi, mi scuso, gli chiedo scusa, ma non era rivolto a lei personalmente, era rivolto alla situazione, come per dire, caspita, ma non è mai possibile che ce n'è sempre una, cioè che non funziona mai niente, perché una volta si guasta il treno e una volta cause di indipendenti da gestore e quant'altro, e quindi ce n'è sempre una. E allora lui continuava, eh, perché? Poi parlava in milanese, no? Tipo, cioè voleva fare il milanese imbruttito, ma non è che gli veniva tanto bene. E mi fa, eh, ma perché a te la macchina non ti si rompe mai, no? Come per dire, cioè, sono cose che possono succedere. Mi ha detto, sì, ho capito, ma ancora ho cercato di scusarmi e dire che, guardi, non era rivolto a lei l'insulto. E lui continuava, alla fine, la seconda volta, l'ho mandato, però era rivolto a lui. Cioè, come per dire, cioè, caspita, ti ho chiesto scusa, che cazzo continui a rompere le palle su sta roba? Cioè, basta, no? Stai zitto, non continuare a menarla lì, no? E niente, eh, perché questi treni fanno migliaia di chilometri. E allora io gli ho risposto, ho detto, eh, appunto, se fanno migliaia di chilometri, cioè, cambiateli, cioè, se si guastano, cambiateli. O meglio, non potete cambiarli, perché non ci avete i soldi, cioè, aggiustateli. E allora poi è fatto lo splendido, no? Cioè, proprio è arrivato la sua... E infatti abbiamo il Leonardo, che è uno dei treni nuovi. E io continuavo... E poi dopo mi sono incazzato, cioè, non ci ho visto più, e niente. E vabbè, in tutto ciò c'era un gruppo di scolaretti che non stavano andando a scuola, erano in gita scolastica e praticamente si sono un po', eh, come dire, rivolti verso di me dicendo, dicendomi, eh, ma che cosa, che cosa lo insulta, no? Dandomi del lei, che, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, se... lo fa per il nostro, per la nostra sicurezza. Allora io gli ho detto, ciccio, cioè, tu adesso sei in gita scolastica. Cioè, quindi se te arrivi tra un'ora o due ore, non succede niente. Io invece devo andare a timbrare il cartellino. E quindi se arrivo in ritardo, eh, potrebbe succedere qualcosa. Quindi, vedi un po' tu. Cioè, tu oggi sei in vacanza, perché non devi fare i compiti in classe. Io invece devo andare a lavorare. È ben diversa la cosa. Ecco. E niente, poi dopo, ritornando al povero macchinista, perché alla fine lui non c'entrava niente, lui continuava a dire, eh, poi parlava anche mezzo milanese, fa, eh, non è mica possibile, non è mica possibile che in tanti anni è la prima volta che mi capita una roba del genere. E andava avanti. E niente. Poi il treno se ne va, se ne va, perché stranamente è riuscito a spostarlo. Cioè, se era guasto, cioè a casa mia se è una roba è guasta, non si dovrebbe spostare. Però, fa niente. Arriva il treno successivo, salgo su, facciamo tre fermate, alla terza fermata il treno si blocca, comunicazione di servizio, abbiamo tolto la corrente. Mi sono girato verso un altro passeggero e gli ho detto, e poi si lamentano se uno li manda a quel paese. E lui mi ha guardato e mi ha fatto, così, come per dire, eh, eh, sotto sotto, un po' di ragione ce l'hai. Però, detto ciò, io mi voglio scusare pubblicamente con questo povero macchinista. E anzi, tra virgolette, sono anche un po' preoccupato per domani, perché se dovessi rincontrarlo, magari è capace che me la fa pagare e non mi fa salire. Spero di no, però pubblicamente gli voglio chiedere scusa e gli voglio dire che la parola non era rivolta a lui personalmente, ma era rivolta alla situazione in generale. Io ho sbagliato e chiedo scusa per questo. E niente, quindi, cari, cari amici, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mia vicissitudine, di questa mia, diciamo, mezza rissa, con il povero macchinista della metropolitana, e niente, vi saluto, vi auguro una buona serata, fatemi sapere che cosa ne pensate e mi raccomando, ragazzi, il 13 febbraio è dietro l'angolo, quindi cerchiamo di crescere, dai che ne mancano tre, mancano tre iscritti per arrivare a 40, dai, facciamo questo piccolo sforzo, dai, questo piccolo sforzo, e poi...